Un enorme orso nero ti sta inseguendo, oppure sei bloccato in una foresta durante un incendio. Magari le tue mani sono intrappolate in una fascetta, o forse tutte queste cose insieme. Probabilmente la tua giornata è abbastanza intensa, eh? Non importa quanto la situazione possa sembrare disperata, c'è sempre una via d'uscita intelligente. Scoprite come salvarvi. Seguite questi suggerimenti. Se sei intrappolato sotto una malanga, sputare può aiutarti. Appena smetti di muoverti, crea una bolla d'aria intorno al viso, dopodiché sputa e vedi dove la gravità porta la tua saliva. Poi inizia a farti strada scavando nella direzione opposta. Se all'improvviso ti accorgi che l'acqua si ritira rapidamente e inaspettatamente dalla spiaggia e rivela il fondo dell'oceano, dovresti avvertire tutti i presenti e allontanarti il più velocemente possibile. Perché quando la battiglia è insolitamente lontana dalla riva, questo è segno di uno tsunami. Niente pompa dell'aria e una gomma a terra, solo una pessima combinazione quando si è lontani da casa. Per riparare la bicicletta, prendi un fascio di erba o un mucchio di foglie e riempi uniformemente la gomma quanto più possibile. Questo sarà sufficiente per raggiungere un luogo sicuro. Conosci altri trucchi per riparare una gomma a terra senza pompa d'aria? Condividi la tua esperienza nella sezione commenti. Se siete sotto l'attacco di un alce, quelle creature sono enormi, cercate di nascondervi dietro un albero. Questi animali hanno un punto cieco nella loro visione periferica, quindi risulterà invisibile e potrai scappare più facilmente. Se un orso nero ti sta alle calcagna, ricordati di non voltargli mai le spalle o provare a scappare. Entrambe queste azioni possono renderli ancora più ostili. La cosa migliore è sdraiarsi a pancia in giù per proteggere i vostri organi, incrociando le mani dietro il collo per proteggere le vostre arterie e convincere l'orso che non siete una minaccia. Inoltre, non arrampicarti su un albero, lo fanno meglio di te. Oh, e se vedi l'orso yogi, non travestirti da cestino da picnic. Peggiorerai la tua situazione. In caso di atterraggio di emergenza in acqua, non gonfiare il giubbotto di salvataggio prima di scendere dall'aereo. Finirai per non essere in grado di muoverti senza aiuto, poiché galleggerai fino al soffitto della cabina. La cosa più sicura da fare è fare un respiro profondo e nuotare fuori dall'aereo, portando con sé il giubbotto di salvataggio sgonfio. Solo quando sei fuori dall'aereo puoi finalmente tirare il cordone per gonfiarlo. Se siete in una casa fredda e per qualche motivo non c'è il riscaldamento o la corrente elettrica, provate a cercare qualche grosso mattone, una pentola di terracotta e qualche candela. Accendete le candele e disponete i mattoni intorno. Poi coprite le candele con una pentola capovolta e mettetela sui mattoni. Ora avete una stufa fai-da-te che può riscaldare un'intera stanza. Se vi trovate in un incendio, cercate di stare più bassi possibile. La minaccia più grande non viene dal fuoco in sé, ma dal fumo, poiché il più leggero dell'aria si sposta verso l'alto, quindi dovreste stare il più vicino possibile al pavimento per evitare di respirarlo. Se siete accidentalmente intrappolati in una corrente di risacca, evitate di opporvi nuotando in direzione della riva. Vi stancherete troppo presto. Provate invece a nuotare parallelamente alla riva, fino a quando non uscite dalla corrente, e solo allora spostatevi verso di essa. Se siete intrappolati sul ghiaccio sottile e non c'è nessuno ad aiutarvi, sdraiatevi prima a pancia in giù e stendete braccia e gambe. Se avete dei rompighiaccio, usateli come presa per tornare indietro in sicurezza. Se non li avete, allora dovrete rotolare via nella stessa direzione da cui siete venuti. Questo aiuterà a distribuire uniformemente il peso del vostro corpo. Se siete in un veicolo che affonda, probabilmente cercherete di aprire la porta, ma la pressione dell'acqua non ve lo permetterà. Potrete farlo solo quando l'auto è piena d'acqua e la pressione si sarà stabilizzata. Se siete ancora bloccati, rompete il finestrino. Ma fatelo nel modo giusto. Colpisci la finestra non al centro, ma sui bordi. Se riesci a rimuovere il foggiatesta dal sedile, usalo per rompere il vetro. I foggiatesta sono diversi a seconda del modello di auto, quindi assicurati di sapere come rimuovere quelli della tua auto. Se qualcuno vi tiene contro la vostra volontà e le vostre mani sono legate da una fascetta, prima di tutto slegate i lacci delle scarpe. Infilatele uno attraverso l'occhiello della fascetta e poi fissatelo saldamente all'altro laccio della scarpa. Ora, tenendo le mani vicino al petto, muovete entrambe le gambe come se steste pedalando. L'attrito creato da questi movimenti dovrebbe far rompere la fascetta. Se sentite l'annuncio di sicurezza mentre viaggiate in aereo e le uscite di emergenza vengono segnalate, assicuratevi di contare quante file ci vorranno per arrivare a quella più vicina. Se l'aereo si riempi di fumo o non c'è luce durante l'evacuazione, potete contare il numero di poggiatesta per raggiungere l'uscita. Il vostro conteggio potrebbe aiutare anche gli altri ad uscire. Se in caso di emergenza dovete passare attraverso una porta chiusa a chiave, date un calcio forte in prossimità della maniglia, vicino alla serratura, ed evitate di usare le spalle o la schiena. La serratura si romperà più facilmente. Non scappare da un branco di lupi potrebbe sembrare una pessima idea a dir poco, ma in realtà alla fine li farà indietreggiare. Il loro istinto è quello di inseguire la loro preda. Se tu ti tieni duro, probabilmente non rischieranno. Se ti capita di iniziare a soffocare quando non c'è nessuno ad aiutarti, puoi eseguire la manovra di Heimlich su te stesso, usando una superficie dura come lo schienale di una sedia o un tavolo. Spingi un pugno con l'altra mano nella pancia, mentre ti pieghi su una superficie dura. Quando vi immergete in mare aperto e improvvisamente vedete che tutti i pesci sono scomparsi o hanno iniziato a saltare fuori dall'acqua, raggiungete rapidamente la riva. Significa che gli squali si stanno avvicinando. Lo stesso segno funziona nella foresta con piccoli animali e predatori. Un'improvvisa quiete? Correte a cercare un rifugio. Se si è colpiti da un violento incendio, è necessario proteggere immediatamente i polmoni da cenere, fumo e polvere, altamente tossici. In questo caso, un reggiseno salverà la situazione. Usate una delle sue coppe come maschera per i detriti, coprendovi il naso e la bocca. Legate le spalline intorno al viso per fissarlo alla testa. Per quanto riguarda i ragazzi, beh, potreste iniziare a indossarne uno solo per stare tranquilli. Se non avete a disposizione le batterie giuste per dispositivi vitali, come la radio o la torcia elettrica, è possibile utilizzare batterie più corte con un piccolo trucco. Predete un pezzo di foglio di alluminio e mettetelo nello spazio lasciato dalle batterie più piccole. Ti sei perso? Usa il tuo orologio come bussola. Nell'emisfero nord allinea la lancetta delle ore con il sole. Il sud sarà il punto a metà strada tra la lancetta delle ore e il numero 12. Nell'emisfero sud allineare il numero 12 con il sole. Per avere acqua pulita, prendere due contenitori, uno possibilmente più alto dell'altro. Riempite quello più alto con acqua sporca e immergeteci un pezzo di stoffa attaccando l'altra estremità nell'altro contenitore. Dopo un po' di tempo l'acqua filtrerà attraverso il panno lasciando tutto lo sporco nel primo contenitore. Bisogna comunque far bollire l'acqua per eliminare i piccoli microbi che ci sono ancora dentro. Se state cercando un posto dove nascondervi in casa durante un tornado, scegliete la vasca da bagno. È il posto più sicuro di ogni casa perché la vasca è ben ancorata al suolo. Inoltre, la maggior parte dei bagni ha un'intelaiatura robusta e le tubature aiutano a tenere insieme la loro struttura. In bocca al lupo per tutto questo! Spero che non ne abbiate mai bisogno, ma... Ehi, siate prudenti là fuori! Se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, metti un like e condividi il video con i tuoi amici. Abbiamo altri bellissimi video che ti potrebbero interessare. Clicca a destra o a sinistra e ricordati di restare sul lato positivo della vita. Grazie a tutti!